E' un Milan che vince e convince. Buona la gara dei ragazzi di Stefano Pioli che nonostante il turnover vince in casa del Cagliari di Claudio Ranieri. L'allenatore rossonero propone Adli davanti alla difesa, la sua seconda partita da titolare da quando è al Milan, ed un tridente del tutto inedito con Ciocuese, Okafor e Pulisic. Il Milan parte gestendo mentre il Cagliari attende per poi ripartire con un grande esito Luvombo. Al secondo minuto Reinders palla al piede e tenta un tiro dal limite dell'area che sfiora il palo. Il Milan cerca di trovare spazio con le combinazioni strette e all'ottavo minuto Adli verticalizza per Reinders che serve Okafor che di testa non riesce a portare i rossoneri in vantaggio. Al ventinovesimo Adli perde palla pressato da Luvombo che con un tiro mancino beffa Sportiello sul suo palo. Gran gol del numero 77 dei Sardi. Il Milan però reagisce, nell'ultimo minuto del primo tempo pareggia e poi riesce a ribaltare anche la gara. Al quarantesimo uno scambio tra Adli e Reinders con Pulisic che riceve palla da quest'ultimo. Salta l'uomo e crossa per Okafor che dopo un errore di Radunovic sposta la palla di suola e segna a porta vuota. Al quarantasettesimo il Milan passa in vantaggio in maniera astuta con Adli che batte un calcio d'angolo servendo Reinders con il centrocampista che ha trovato Mori in aria. Tapin è 1-2. Finisce il primo tempo. Nel secondo tempo i Sardi partono a mille. Al cinquantacinquesimo dopo una sponda di Petagna l'uvumbo calcia dal limite dell'area piccola. Madli si fa perdonare e salva tutto. Al sessantesimo Loftusic chiude la gara. Dopo aver ricevuto la palla da Pulisic il centrocampista inglese calcia nell'angolino con un grandesso dalla distanza che beffa Radunovic. La partita cala di ritmo e dopo qualche occasione d'ample parti il match si conclude sull'1-3. Vittoria pesante del Milan che aggancia l'Inter in vetta alla classifica considerando anche la sconfitta dei cugini proprio contro il Sassuolo. Andiamo a vedere le pagelle ma prima io vi ricordo di seguire AC Milan Inside sul nostro sito, il nostro canale Twitch, il nostro canale YouTube, i nostri profili Instagram, Twitter, Facebook e anche appunto sul nostro canale YouTube. Sportiello voto 6 più, buona la gara del portiere, prende gol sul suo palo ma c'è da sottolineare un missile terra aria di luvumbo da pochi metri. Era difficile da prendere. Gran parata di riflessi nel secondo tempo suo ristagno. Florenzi voto 6, gara d'esperienza del terzino del Milan che si propone e difende bene. Passiamo a Ciao, 6 anche per lui, tiene a bada Petagna, continua i scontri fisici tra lui e il numero 32 dei Sardi. Nonostante non ci sono errori difensivi in duali, i rossoneri però concedono qualcosa di troppo. 7 per Tomori, solidità per il difensore inglese, gran bel duello tra lui e luvumbo, si scontrano e si danno battaglia nell'uno contro uno per tutta la gara. Alta bella prestazione di Tomori. Voto 6,5 per Teo Hernandez, spinge e difende. Quando gli altri carano lui si esalta, prestazione da capitano del Milan. 6,5 anche per Loftus Cic, fa più fatica del solito ma la sua fisicità fa sempre la differenza. Si inventa il gol dell'1-3 con un super tiro dalla distanza e i gol potevano essere anche di più perché era stato pescato due volte in aria dal suo compagno Chocuese. 6,5 anche per Adli, non giocava titolare da una vita, tecnicamente mai messo in discussione, palla ai piedi e un giocatore di livello. Verticalizza, sventaglia per più di 30 metri con massima precisione e fa una gran giocata di suola per l'occasione di Okafor. Il problema è senza palle nelle corsa all'indietro, ma oggi ha stupito anche da questo punto di vista. ha tolto l'errore del gol. Ferma nell'1-1 a campo aperto Rubumbu e sventa un gol fatto del numero 77 nel secondo tempo. Deficit dinamico, tanta roba tecnicamente. Vedremo come proseguirà. 6,5 anche per Reinders, corre, si propone, salta l'uomo e serve l'assist dell'1-2. Al secondo minuto sfera anche un gran gol. È tornato il geometra. 6,5 anche per Chocuese, punta, punta sempre in buca. La sua gara lo ha visto ripiegare difensivamente e imbucare due volte per Love2Chicks con palle intelligenti mettendolo davanti alla porta. Nello stretto si esalta e verticalizza molto. È un giocatore forte che sta crescendo. 7 per Okafor, segna e si sacrifica. Provato come vice girù, segna e corre tanto. Al novantesimo ancora le forze per ripiegare difensivamente sul buco lasciato da Leao, puntare l'uomo ed usare la suola. Premiato il sacrificio fino all'ultimo minuto. 6,5 per Pulisic, tanta corsa, si impegna molto e gran giocata nel gol del pareggio. 5 per Pobega che entra al posto di Reinders e sbaglia tanto, forse è troppo. Senza voto Romero e Leao. 6 per Bartesaghi dopo l'esordio di sabato che viene riproposto da Pioli per far rifiattare Teo Hernandez. L'emozione è passata, ora si deve crescere. 6 più per Musa. Entra davanti alla difesa al posto di Adri e si sbatte molto. Smista, recupera e salta l'uomo. Queste erano le nostre pagelle del post Cagliari-Milan. Mi raccomando, continuate a seguire il Milan sui nostri canali YouTube, il nostro canale Twitch, Facebook, Instagram, il nostro sito ovviamente e il nostro profilo Twitter. Ci vediamo per il prossimo match dei rossoneri. Forza Milan!